Good morning Milano, giovedì, giovedì 31 ottobre, chiudiamo il mese ma soprattutto chiudiamo la settimana, eh sì, è questa settimana corta, questo giovedì che sa di venerdì, quindi thanks god is giovedì, non è venerdì ma insomma domani cosa fate, dove andate, dove andate di bello? Si va via, si va via per questo ponte, si rimane qua, cosa avete in programma? Soprattutto cosa avete in programma per questa sera? Soprattutto se avete figli medio piccoli diciamo, perché in realtà no, medio grandi, tutti in realtà fanno Halloween ormai, la città è arancione ovunque, manco fossimo dalle parti di St. Louis o Pittsburgh, è invece così, ormai è una festa che è entrata a far parte proprio a gamba tesa degli appuntamenti dell'anno anche qui da noi, soprattutto anche perché insomma commercialmente fa un gola a tanti e sicuramente è la rivincita anche della zucca, cioè ditemi la verità, quando mai avete mangiato la zucca in vita vostra? Mai! Grazie ad Halloween abbiamo imparato anche a conoscere che esiste la zucca, che non serve solo per fare la faccina scary face che ti fa paura guardandola con l'umino dentro qua, dentro la zucca, ma anche tra l'umino volete mangiare, quindi insomma qualcosa di buono forse c'è stato, va bene? 3317853555 è il nostro numero di whatsapp, scriveteci, diteci cosa fate oggi ma soprattutto cosa farete magari in questo lungo weekend se andate da qualche parte, noi siamo qua ad accettare, ad ascoltare, ad apprendere tutto quello che volete e a condividere con voi la mattinata fino alle 9 qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM in tutta la provincia di Milano e poi il Dub Plus che ci porta in Lombardia ma soprattutto la nostra app e il nostro sito che ci portano in tutto il mondo Yeah haha con Take On Me alle 7 e 16 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano, grazie a chi ci sta scrivendo in whatsapp al 3317853555 come ad esempio Nello che dice questo weekend essendo reduce da una settimana a Fuerteventura vado in Liguria e resto umile, sobrio, modesto, low profile beh insomma non male anche farsi il weekendone lungo in Liguria non niente male anche se si è fatto cos'è una settimana, reduce da una settimana insomma a Fuerteventura e poi Alberto, Alberto che ci scrive buona vigilia di Ogni Santi a tutti, sì perché vi ricordo che non è che domani siete a casa perché è il giorno dopo Halloween no, domani si sta a riposo e si fa vacanza perché appunto è gli Ogni Santi e buon weekend lungo a Fabio, Beatrice, Ginevra, grazie mille Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio weekend obbligato a Milano per festeggiare sabato con gioia, quindi un obbligo però bello i primi 60 anni di un carissimo amico, auguri Marco, beh allora ci uniamo anche noi agli auguri per Marco per i suoi primi 60 anni va bene, auguri, auguri, complimenti, congratulazioni, complimenti per la trasmissione come si dice in questi casi comunque e poi ci dà giustamente, mancava la fattualità del messaggio di Alberto quindi poi arriva con scritto e adesso prepariamoci ad affrontare come utenti quello che il servizio pubblico cittadino ci prepara questa mattina ogni giorno è sempre più difficile essere utenti del trasporto pubblico ed effettivamente sì, lo stavamo leggendo anche nei giorni scorsi, sempre più complicato alcune linee date in gestione, diciamo non è un subappalto, è una gestione a delle altre aziende perché ATM non riesce a sopperire alla problematica della carenza di personale, attualmente almeno in questo momento altre linee che vengono invece tagliate, ridotte le frequenze proprio per cercare di far sì che quei pochi autobus che devono passare passino in tempo, mi spiace perché da una parte si capisce come in una città come Milano dove gli investimenti sono andati in direzione anche del trasporto pubblico, vedete le metropolitane ecco forse si è pensato troppo alla metropolitana, alle metropolitane già adesso si pensano alla nuova linea 6 e poco a quello che già esisteva, che sono appunto le linee di superficie che sono fondamentali per tantissime 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 persone perché non tutte le metropolitane servono tutte le zone, prima cosa seconda cosa, la metropolitana non può essere, non deve essere così capillare perché sennò andrebbe a perdere il suo significato anche di spostamento veloce da una parte all'altra città e invece serve il trasporto di superficie che collega spesso e volentieri magari anche più punti importanti della città alle metropolitane anche di conseguenza ma soprattutto collega anche l'Interland alla metropolitana in città e questa modalità che è quella intermodale, chiamata come volete dove magari io arrivo anche con la macchina alle porte della città poi prendo un altro mezzo, poi prendo la metropolitana poi dopo la metropolitana prendo magari un mezzo di superficie per andare dalla metropolitana al luogo che mi interessa ecco è fondamentale che funzioni sempre e tutto abbastanza bene non mi vorrebbe dire perfettamente l'utopia lontana ma insomma dovrebbe funzionare tutto abbastanza bene ecco, se cominciamo a tagliare corse, se cominciamo a non avere personale perché poi di base il problema principale sembrerebbe soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico locale a Milano non è tanto l'infrastruttura che invece funziona non sono tanto i mezzi che invece ci sono non sono tanto i tram che sono arrivati, stanno arrivando anche i nuovi tram bellissimi, i tramlink sono stupendi, sono molto all'avanguardia già visti dalle parti di Tolosa, di Tour, di Copenhagen sono tram di quelli moderni pensate ci sarà anche la presa USB per caricare il cellulare ecco, non è il problema di Trenord invece dove l'infrastruttura delle ferrovie traballa, va bene, con questo eufemismo no, qui c'è un problema proprio che i mezzi ci sono ma non sappiamo a chi farli guidare e questo è un grosso problema tutto questo ruota ovviamente intorno a cosa sta diventando questa città Giorgia, niente di male Giorgia che questa sera sarà sul palco di X Factor come tutti i giovedì a presentare appunto la nuova edizione di X Factor arrivata questa sera alla seconda puntata dei live una Giorgia che si sta cimentando in qualcosa davvero molto distante da quello che lei è abituata a fare ma che insomma sembrerebbe portare a casa per adesso diciamo il compito lo porta a casa ecco poi secondo me se sarà brava, quanto è brava a cantare sicuramente farà una grande edizione deve ancora prendere le misure così si dice in gergo diciamo secondo me bisogna un attimino aspettare sospendiamo il giudizio se poi proprio anzi oltretutto chi mai ci ha chiesto di dare un giudizio però fa niente sospendiamolo un attimo e vediamo appunto come andrà nei prossimi live invece andiamo sui giornali scusate ancora questo raffreddore questo raspino che continua a attaccarmi tutte le mattine comunque dicevo dalla Repubblica leggiamo dai mercati all'edilizia le imprese straniere a Milano che sorpassano quelle italiane e producono pensate il 9% del PIL regionale ecco i settori in cui le piccole e medie aziende gestite da immigrati hanno superato quelle autoctoni Zita Dazzi un articolo appunto su Repubblica Milano che prende i dati scorrere appunto i dati del registro delle imprese aggiornate al terzo trimestre 2024 si vede infatti che sono ormai 44 i settori economici nell'area metropolitana di Milano dove l'impresa straniera ha superato quella che potremmo definire autoctona ok nelle tabelle aggiornate a settembre si vede che nell'area metropolitana sono 56.300 e pasta le ditte con titolare non italiano in crescita rispetto all'anno prima del 46% quali sono i settori che in più portano appunto questo sorpasso delle aziende a conduzione straniera in determinati settori del terziario c'è il sorpasso appunto dei titolari stranieri a titolare straniero il 60% ad esempio delle bancarelle dei mercati dei ciabattini e dei negozi di telefonia 70% del PDQ e manicure delle ditte di svuotamento cantine solai e traslochi come anche dei centri benessere due terzi dei titolari sono stranieri delle oltre 5.000 imprese di pulizia di pulizia ad esempio in provincia così come l'80-90% delle SRL che fanno commercio ambulante non alimentare tessile bigiotterie quelle cose lì sartorie phone center e poi vabbè ovviamente in questo caso era ovvio che forse anche fosse il 100% dei money transfer questo ci sta in città in città cosa abbiamo Milano città 34.000 imprese straniere con 122.000 addetti appunto e 73.000 cioè 122.000 addetti nell'area metropolitana e 73.000 solo in città secondo il codice Ateco che sono appunto i codici che definiscono le aziende si vede che a fine settembre 2024 il primo settore dove gli stranieri sono attivi è quello delle ditte di muratura e quindi gli stranieri superano i bergamaschi ok questo dopodiché però io porto un dato che è fondamentale noi diciamo stranieri e italiani ma non è che cioè non è che la divisione dovrebbe essere cioè italiani egiziani Sri Lanka cioè è questo che dovrebbe bisogno andare a vedere nel senso quali sono le nazionalità che producono più pile quali sono le nazionalità che si mettono in autonomia di più rispetto ad altre nel senso che dire stranieri però nell'edilizia ci saranno sicuramente ditte a conduzione egiziana romena albanese e di tante altre nazioni che appunto vengono rappresentate nel grande gioco senza frontiere che è Milano quindi sì ho capito cosa vuol dire questo tipo di di inchiesta di report che è arrivato appunto di calcolo bisognerebbe però forse capire anche quali sono invece però le nazionalità che di più producono o no ovviamente questa è una domanda retorica perché ovviamente nell'articolo su Repubblica Milano c'è si parla di Egitto Bangladesh Romania Marocco Albania insomma queste sono le prime nella top ten le prime nazioni che appunto hanno aperto di cui appunto i cittadini hanno aperto aziende hanno aperto partita IVA così potremmo dire nella nostra città Gli 883 la regina del celebrità ormai questo pezzo 1999 questo pezzo ormai qualsiasi canzone passa in questi giorni degli 883 è super attuale visto la serie tv che in questo momento spopola su Sky e su Now tantissimi l'hanno vista tranne Claudio Cecchetto così dice lui insomma sembrerebbe però so da fonti a me vicine che lui non l'ha vista quello è vero ma gliela stanno raccontando tutti praticamente come se l'avesse vista chiunque sta vicino a lui anche solo per due minuti gli fa qualche battuta o dice qualcosa su la sua presenza all'interno della serie che parla di 883 hanno ucciso l'uomo ragno appunto che la potete trovare come dicevo su Sky o su Now è interessante anche vedere appunto questo personaggio ma non solo perché abbiamo appunto c'è Claudio Cecchetto c'è anche Fiorello a un certo punto c'è qualcuno che interpreta Fiorello ed è molto interessante il personaggio di Fiorello tra parentesi meno stereotipato però se devo dire rispetto ad altre rappresentazioni che sono state fatte di Fiorello in altri film come ad esempio Il mattino l'oro in bocca dove appunto la storia di Baldini e c'è anche lì viene interpretato ovviamente Fiorello anche in quel frangente è un po' più stereotipato diciamo poi c'è anche Pierpa Pierpa Pierpaolo Peroni che è colui che produce tra parentesi ricordiamo colui che produce gli 883 colui che produce appunto Max Mezzale e Mauro Repetto all'inizio ed è colui che poi produrrà anche successivamente poi Giovanotti lo porterà al grande successo e ricordiamo anche marito della cantante siria chiudo il cerchio la regina del celebrità abbiamo appena ascoltato che se ci pensate un attimino è il preambolo di una canzone nuovissima invece di Max Pezzali che è discoteca abbandonata perché si parla di quello il celebrità che molti di noi individuano nella zona del Magentino non è quello invece no perché il celebrità di cui parla Max Pezzali era una discoteca che proprio stava dalle parti di Pavia e non invece quella che sta qui alle porte di Milano però molti appunto della zona ovest si ricordano che c'era un locale che si chiamava Celebrità dalle parti qui del Magentino diciamo più o meno e invece no qui si parla della regina del celebrità cioè del celebrità quello pavese e sembrerebbe che per l'ennesima volta che appunto Max sia passato davanti a il celebrità ormai chiuso ma anche il docking che era un'altra discoteca di Pavia chiusa anch'essa e così niente gli venne appunto l'idea di scrivere poi discoteche abbandonate poi c'era anche la cometa che era un'altra struttura molto interessante che lui ha visto chiudere insomma ci sono appunto delle analogie diciamo tra quella che appunto era la canzone della regina del celebrità 1999 un momento pieno di discoteche mi ricordo mi ricordo anche i telegiornali parlavano di discoteche che poi anche lì qualsiasi cosa succedeva nel mondo era colpa delle discoteche in quel frangente e quindi si parlava solo di quello ormai le discoteche boh credo che si esistano ancora ma sono ormai andate un po' a scemare un po' a sfumare nella notte dei tempi o nella notte della musica e invece rimangono nella memoria appunto delle canzoni come questa della regina della celebrità oppure invece riportandoci alla realtà come l'ultima di Pezzali appunto una delle ultime di Max Pezzali che è appunto discoteche abbandonate date un'occhiata appunto su internet perché ci sono delle interviste interessanti a Max Pezzali che racconta di questa sua presa di coscienza sul fatto che appunto le discoteche ormai stanno chiudendo e sul fatto che chissà chi è la regina della celebrità oggi e soprattutto la regina della celebrità oggi sarebbe la regina di che cosa la regina di TikTok la regina dell'Instagram di quale locale se sarebbe un locale oppure di quale social se sarebbe un social chissà ma chissà la regina dove sarà intanto ascoltiamoci i Corner Shop and singing and dancing i Corner Shop con Brimful of Asha pensate che io questa canzone qui è stramba perché questa qui è una versione diciamo del Norman Cock remix che in realtà è quella che abbiamo ascoltato tutti più volte ma esiste anche la versione originale che è leggermente più lenta originale sempre dei Corner Shop dicono perché poi in realtà è un richiamo una vecchia canzone degli anni 70 comunque la cosa divertente è che ho il vinile di questa canzone in realtà la versione che scontriamo tutti è la versione originale messa che invece che a 33 giri ha 45 giri fondamentalmente nel senso che davvero ogni volta tu devi andare a leggere sul disco quant'è la velocità del disco perché quando l'ascolti va bene sia a 33 che a 45 giri va bene sia lenta che veloce è divertente questa cosa e quindi insomma col vinile non è mai semplice capire qual è la versione corretta della canzone canzone che ha sortito il suo effetto che è quello che io vorrei che tutte le mattine sortisse in voi che ci ascoltate non dico chi è che ci scrive per privacy facciamo così però arriva un messaggio che insomma mi spiace per l'incipit ma mi fa felice per la conclusione perché dice sono giorni orribili al lavoro fortuna che la mattina ci sei tu grazie mille questa la sto cantando tantissimo meno male sono davvero contento di aver così di aver fatto anche del bene va bene si può dire così no nel senso di poter insomma esprimere lanciare questo brinfulo fascia che faccia un po' sorridere tutti quanti va bene comunque noi siamo qui per questo anche no 331 7853 555 condividete con noi anche le vostre più intime apprensioni problematiche quello che volete tanto noi appunto vedete come come fate in questo caso abbiamo mantenuto l'anonimato della nostra persona che si sta scrivendo no grazie Luca no scherzo non è vero abbiamo protetto l'anonimato di chi ci scrive quindi se volete potete raccontarci anche i vostri segreti più intimi noi li costruiremo qui e non diremo mai chi siete va bene promesso anzi cancello il whatsapp poi una volta che è arrivato così nessuno anche dopo di me potrà leggerlo sul whatsapp qui di crystal radio al 331 7853 555 da giornate terribili al lavoro a giornate che potrebbero diventare un po' meglio al lavoro meglio di un lavoro che è sempre più complicato che quello appunto degli infermieri in Lombardia degli infermieri punto soprattutto in Lombardia cosa leggiamo da Repubblica Milano a firma di Alessandra Corica dall'Argentina in Lombardia oltre 200 infermieri in arrivo nel 2025 Bertolaso dice patto per superare la carenza di organico gli arrivi negli ospedali pubblici l'assessore al welfare dice il primo degli accordi internazionali per incrementare il numero di professionisti che potranno venire a lavorare qui in Lombardia dovrebbe appunto iniziare nei primi mesi del 2025 l'obiettivo è quello di superare la carenza di organico che negli ospedali pubblici regionali rende sempre più difficile mandare avanti corsie e reparti la regione Lombardia quindi si appresta a firmare un accordo per far arrivare nei prossimi mesi oltre 200 infermieri dall'Argentina patto di durata triennale sarà signato entro metà novembre con l'istituto universitario italiano di Rosario e permetterà il progressivo inserimento nei centri di cura Lombardi degli operatori sudamericani un'operazione a cui si lavora già dallo scorso anno e che ha lo scopo di colmare quelle carenze di organico per le quali nonostante numerosi concorsi manditi finora non è stata trovata soluzione poi leggetto tutto l'articolo di Alessandra Corica dove spiega bene tutto mi fa specie e comunque è interessante come dato il fatto come più di una situazione in città e in regione siano al momento in situazione problematica per via della carenza di personale carenza di personale sappiamo però che insomma non è che abbiamo il dato della disoccupazione praticamente allo 0% in realtà c'è quindi c'è un problema tra domanda ed offerta e soprattutto tra il tipo di offerta che viene fatto ma soprattutto continuo a dirlo non è tanto che veniamo pagati poco per il lavoro che facciamo è che la vita forse costa troppo per il luogo in cui lavoriamo e in cui siamo questa era Ernia insieme ai pinguini tattici con ferma a guardare è un po' quello che succede a noi appunto che siamo qui fermi a guardare questa situazione in cui la sanità il trasporto pubblico ma non solo tanti altri comparti del nostro mondo hanno problematiche e molte di queste legate alla carenza di personale quindi siamo qui in realtà fermi a guardare perché non capiamo bene cosa fare ok possiamo proporci ma poi come facciamo adesso sarei interessato poi andate a leggere l'articolo che voglio capire dopo bene lo leggo anche per bene questi qui che arrivano dall'argentina benissimo ma poi come ci vivono qua a Milano con lo stipendio da infermiere e doversi prendere la casa e tutto quello che è punto di domanda su questo c'è un bello whatsapp che è arrivato poco fa al 3317853555 che ci dice ma c'è un problema di fondo questo modello di società non funziona più e ha un orizzonte limitato sia a livello locale sia in scala più grande a livello mondiale è vero quell'orizzonte limitato che poi da una parte è veramente non riuscire stare fermi a guardare appunto non riuscire a davvero un orizzonte più lungo dall'altra però abbiamo anche nello stesso identico modello o forse in realtà scopriamo che ci sono più modelli effettivamente di questi mondi nello stesso pianeta abbiamo chi invece immagino un Elon Musk o un Bill Gates così hanno un orizzonte così invece lungo che sono lì a pensare alle macchine da mandare su Marte con la propulsione elettrico nucleare e invece poi nello stesso identico mondo abbiamo le miserie umane che sono le nostre di ogni giorno senza andare a pensare ai problemi del terzo mondo che ci sono ai problemi difficilissimi di zone molto complicate del mondo ma in realtà quelle miserie umane vivono anche qui perché sono il non poter far funzionare bene un tram il dover litigare e ammazzarci di botte pensando a una ciclabile in corso Venezia in corso Buenos Aires insomma ecco questi modelli da una parte non c'è l'un'ingimiranza dall'altra c'è forse una visione anche fin troppo futuristica Drive My Car dei Beatles alle 8.08 qui su Cristian Radio Good Morning Milano Drive My Car perché insomma se ci sono problemi con il trasporto pubblico forse ci rimane solo quella soluzione non lo so sicuramente però ci rimane la possibilità di andare invece a dare sostanza e nutrimento alla nostra anima al nostro cervello grazie a far diventare magari il teatro un'abitudine ma da soli ve lo dico già non si può fare se non invece ascoltando i consigli di Tamara Valleo buongiorno Tamara buongiorno buongiorno Fabio buongiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori di Good Morning Milano e di Cristian Radio come stai come stai come stai alle tue collaboratrici Beatrice e Ginevra che lavorano lacrimente sono qua che corrono da una parte all'altra dello studio secondo me perché fanno ginnastica però nel senso comunque sono anche molto bravi sono bravissime poi adesso è arrivato anche un maschietto finalmente abbiamo anche abbiamo anche Luca adesso pensa che verrà bistrattato e trattato malissimo dalle due arpie ma non è vero bravissime bravissime comunque non potrei fare questa trasmissione senza di loro esatto come non possiamo farci un weekend o comunque una serata decente senza seguire i tuoi consigli allora oggi ho voluto fare un viaggio tra letteratura e teatro perché perché oggi allora prima di tutto andiamo al teatro studio Melato che si trova in zona Lanza quindi metropolitana verde fermata Lanza si può raggiungere facilmente anche con la bicicletta e io lo faccio sempre per uno spettacolo che io trovo secondo me una vera chicca e cioè altri libertini tratto dal testo di Pier Vittorio Tondelli che era uno scrittore che poi è stato anche appunto giornalista diciamo che faceva dei testi molto di rottura nei confronti di una società che in qualche modo voleva far tacere una parte di voce e invece nei suoi testi che sono testi però abbastanza appunto forti di rottura c'è una forma di rivoluzione e Licia Lanera che è un'artista meravigliosa che ha una compagnia appunto Licia Lanera porta ha scelto di portare in scena per la prima volta un testo nel senso che i testi di Tondelli non sono stati mai portati in scena lei ha avuto la possibilità di avere i diritti per portare in scena questo testo altri libertini che è stato addirittura censurato nel momento in cui è andato in pubblicazione e lo porta in scena insieme a una compagnia scelta da lei con Gian Domenico Cupaiolo Danilo Giuga che fa parte della compagnia Licia Lanera Licia Lanera stessa e Roberto Magnani e portano in scena tre dei racconti contenuti all'interno di altri libertini sono racconti appunto con un linguaggio molto forte proprio di rottura che parla di una generazione come spesso di giovani e margini della società in cerca di una propria identità alla fine degli anni settanta sicuramente è un'opera Licia Lanera ci ha abituato nei suoi spettacoli ad essere sempre molto vera molto onesta molto dritta nelle sue narrazioni nei suoi racconti e devo dire che in questo caso ha scelto con grande consapevolezza di entrare nel mondo di Tondelli di farlo conoscere anche attraverso questa riproposizione perché appunto lei firma la trasposizione teatrale e la regia e devo dire che secondo me è un appuntamento da non perdere sia che abbiamo letto i testi di Tondelli sia che invece non conosciamo questo autore e vogliamo scoprirlo attraverso questo spettacolo quindi Studio Melato Metropolitana Lanza ci troviamo appunto in centro Milano si raggiunge anche con la bicicletta ecco con la macchina è un po' più difficile però diciamo che si può raggiungere facilmente andare in macchina lì veramente ti da denotoglio la patente non ci ho mai provato può arrivarci in qualsiasi modo per andare che in macchina esatto invece adesso ci spostiamo in zona Porta Romana perché andiamo al teatro Franco Parenti dove è in scena fino al 10 di novembre uno spettacolo anzi due spettacoli su Tennessee Williams che è un grande drammaturgo che americano che appunto ha portato molte storie sulla solitudine sulla ricerca di sé attraverso le sue opere e sono in scena due testi Tennessee Williams con un autore scusate con un interprete che lega questi due spettacoli quindi è anche una cosa molto particolare perché da una parte abbiamo Parlami come la pioggia con la regia di Andrea Piazza in scena c'è ci sono una meravigliosa Valentina Picello e Francesco Sferrazza Papa lo stesso Francesco Sferrazza Papa è protagonista anche dello Zoo di Vetro che è l'altro spettacolo di Tennessee Williams sempre al teatro Franco Parenti con in scena appunto Francesco Sferrazza Papa Zoe Solferino Valentina Bartolo e con la regia di Luigi Siracusa quindi si può fare un viaggio nelle in due opere di Tennessee Williams quindi comunque in uno spaccato del suo della sua produzione attraverso questi due racconti sono attraverso questi scusate questi due testi sono molto diversi fra loro perché Parlami come la pioggia sono cinque quadri e quindi cinque narrazioni di solitudine declinate in forma diversa perché ci sono appunto due relazioni diverse tra madre e figlio una coppia tra due persone che si incontrano casualmente e le cui malincoline si toccano quindi c'è una narrazione che si spezza e si ricompone in dinamiche molto diverse fra loro Valentina Picello e Francesco Serrazza Papa lo riescono a fare con una grande con un'emotività che arriva al pubblico ma poi viene interiorizzata e arriva profondamente alle radici di quel dolore e di quella malinconia dall'altra parte lo zoo di vetro è una storia che moltissimi conoscono perché la storia è di questa famiglia la madre Amanda e figli Tom e Laura una madre che è rimasta da sola e che vede in questi figli in qualche modo la fine diciamo così della sua vita e quindi riversa su di loro un amore spropositato che in qualche modo non le permette di vivere pienamente il suo presente e quindi c'è una frustrazione molto profonda che lei cerca di risolvere attraverso la risoluzione diciamo così delle vite dei propri figli un figlio Tom che anche lui è frustrato perché deve sopportare il peso di una famiglia un peso che non ha scelto ma che da qui si sente imprigionato e poi c'è Laura che forse è il personaggio tra questi più lontano dal senso di frustrazione lei vuole solo trovarsi nel mondo e invece il mondo non l'accetta perché ha un piccolo difetto fisico ma in realtà la grande la sua grande difficoltà è che il suo mondo interiore non si coniuga con il mondo esteriore e quindi queste tre anime che entrano in conflitto fortemente tra loro a un certo punto avranno un diciamo così uno scontro ultimo che porterà a una conseguenza assoluta e però la cosa interessante è che Luigi Siracusa il regista ha scelto di fare questo viaggio attraverso la memoria quindi non siamo nel presente ma siamo nella memoria e nei ricordi del figlio Tom un viaggio molto bello sia Parami Come la Pioggia che lo Zoo di Vetro saranno in scena al Teatro Franco Parenti zona portaromana quindi metropolitana gialla fino al 10 novembre ma voglio chiudere questo appuntamento visto che la letteratura ci ha accompagnato chiudiamo con un libro no si ah ok chiudiamo con consiglio letterario Rosella Postorino nei nervi e nel cuore lei è diventata molto famosa ai più per le assaggiatrici e questo è un memoriale per il presente quindi ci sono molte riflessioni sulla sua storia personale che però si connettono con la storia di tutti noi e di tutte noi in qualche modo e c'è una riflessione bellissima sulla fragilità e con questa vi saluto poi ciò che lascia perplesse le persone è la fragilità che non si può mascherare connessa a un'indubbia tenacia insomma la contraddizione credo di essere finita a occuparmi di romanzi perché i romanzi lo sanno che di contraddizione siamo fatti ce lo sbattono in faccia senza nascondimenti più sono validi e meno ci abbindolano in un mondo che includerebbe soltanto i produttivi e gli efficienti i romanzi sanno che la possibilità di inciampare di deragliare è una sovversione scrivo perché a volte mi sento rifiutata e indegna e questa sensazione prima o poi la provano tutti scrivo perché ho bisogno di essere accettata come chiunque scrivo per cercare riscatto e non mi sento riscattata mai scrivo per rivendicare il nostro diritto di trionfare e di perdere di essere limpidi e imprescutabili qualcosa che difficilmente si può afferrare del tutto perché siamo ambigui cioè umani quindi detto questo detto questo io non posso aggiungere niente neanch'io neanch'io e l'ambiguità e comunque l'essere umano è indagato e frastagliato grazie anche a tutte le narrazioni teatrali che ci accompagnano che quindi oltre che quelle letterarie che in realtà che si innescano tra loro perché molto spesso gli spettacoli teatrali vengono ispirati da romanzi le parole in qualche modo si mescolano e si manifestano attraverso forme d'arte che possono essere il teatro la letteratura anche la pittura l'arte eccetera quindi andate e cercate di trovare la vostra fragilità nelle narrazioni che ci circondano Tamara grazie mille davvero appuntamenti che non possiamo perderci e soprattutto grazie anche per quest'ultima chiusura molto interessante ricordaci il libro faccelo vedere all'ultimo secondo chi è Rossella Postorini nei nervi e nel cuore Rossella Postorino nei nervi e nel cuore grazie mille Tamara a settimana prossima buon weekend lungo ciao ciao andiamo con un po' di musica e poi sono già arrivata già arrivata la nostra ospite la vedo dal dià del vetro Valeria De Paoli oggi ci parlerà di un podcast ma qualcosa di molto molto interessante che adesso poi vi racconto meglio anzi ce lo facciamo raccontare dalla sua viva voce subito dopo Giovanotti subito dopo mi fido di te 8 e 23 minuti qui in diretta su Cristal Radio vi ricordo sempre sui 96.2 FM in provincia di Milano e Milano e sul Dub Plus in tutta la Lombardia e ovviamente poi c'è anche l'app per iOS Android l'app che potrete utilizzare l'internet come si dice in questi casi che potete utilizzare anche per ascoltare i prodotti finali della nostra ospite di oggi buongiorno Valeria De Paoli buongiorno 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 Valeria scusate non avevo aperto il microfono scusami cominciamo bene forse dovrei avere bisogno di qualcuno che mi insegna a fare i podcast possiamo provarci ma in realtà non ho detto perché dico questo perché Valeria De Paoli che fa parte appunto del gruppo Novate Podcast Lab e viene qua oggi a raccontarci una cosa che ho visto qualche giorno fa navigando sulla rete che è Notiziate un podcast che dà notizie solo dei paesi inate solo dei paesi che finiscono inate se non finisce inate no non lo odiamo stiamo parlando di quanti comuni in Italia allora ci sono 134 comuni in Italia sparsi un po' ovunque questa cosa mi dicevi da sparsi praticamente ovunque io pensavo fossero tutti zona Brianza la maggior parte sono in Lombardia però ci sono anche in Piemonte in Sardegna ci sono anche in Puglia in Calabria ce ne sono in tutta Italia avete fatto il censimento avete fatto abbiamo la lista Istat dei comuni e abbiamo selezionato i gruppi comuni inate poi quelli ufficiali per finale inate poi ci sono tutti anche i quartieri quartieri di altre città che finiscono inate ce ne sono altrettanti voi nella vostra zona invece ne coprite più o meno dieci noi siamo di Novate e quindi nasce da lì c'è le notizie di Novate di tutti gli Ate vicini bollate baranzate cesate limbiate garmagnate e potremmo andare avanti all'infinito come vi lascia l'idea di fare un podcast che racconta le notizie su qualche notizie date allora il podcast è ovviamente su notizie tra il serio e il faceto quindi per dare un po' di leggerezza diciamo che ci sono altri notiziari che danno le notizie di cronaca eccetera quindi noi diamo un po' di notizie un po' tra il serio e il faceto più faceto diciamo così e niente praticamente ogni settimana facciamo un po' di rassegna stampa perché ci sono dei notiziari locali per esempio il notiziario ma sette giorni ma anche le pagine facebook quelle sei di Novate e raccogliamo un po' di notizie che sono per lo più abbiamo le rubriche la metropolitana il pompiere sotto l'albero i pompieri sotto l'albero sì praticamente ci sono un sacco di notizie in cui i pompieri poverini devono fare degli interventi che sono interventi che in realtà sarebbe meglio non chiamare i pompieri ok che non si farti da sola ma invece sì praticamente magari sei sullo sciacquone con la musica non senti la gente si preoccupa chiama i pompieri arrivano e tu sei lì e ti trovano lì sullo sciacquone che stai cantando che stai cantando fra squarciaggola celentano sulla scala arrivano nella finestra e come dici in questi casi non è l'ercio cioè in questo caso è tutto vero perché le notizie che date sono tutte vere e confermate sì tutte da notiziali da giornali sì sì è una segna stampa poi noi commentiamo ovviamente ma abbiamo anche una parte meteo con un nerd meteorologo con il meteorino sì sì un meteorologo serio si chiama Dottor Brambilla che è un po' un nerd della meteorologia e tutte le settimane ci dà il suo insomma il meteo della settimana e poi diamo anche gli eventi l'unica cosa seria sono gli eventi alla fine ah ok eventi sempre della vostra zona sì sempre gli ideati vi collegate anche appunto con altri ate invece sparsi per il globo allora ogni tanto chiediamo abbiamo fatto un contest abbiamo chiesto a chi viaggiava negli ate promuoviamo un po' di ate nell'Italia perché ce ne sono di belli che hanno i laghi eccetera e quindi è così che avete oltre al censimento anche proprio la la conoscenza reale dei vari ate continuiamo a parlare del notiziate e del novate podcast lab subito dopo la prossima canzone Liga Bue con certe notti alle 8 e 37 minuti di nuovo qui in diretta su Good Morning Milano che potrebbe essere certe mattine anzi spero che siano tutte le mattine in vostra compagnia 331-78-5355 è il nostro numero di whatsapp grazie Alberto che ci manda sempre un bel whatsapp di incoraggiamento per iniziare bene la giornata grazie Alberto anche a te buon lavoro torniamo a parlare invece con la nostra ospite di oggi che è Valeria De Paoli parliamo di podcast parliamo di notiziate il podcast delle notizie dei comuni nate nasce appunto a novate e parla diciamo di quella zona lì ma nasce a novate non solo perché finisci nate perché se eravate in un altro comune se eravate a settimo milanese diventava notiziese tutti quelli che finiscono in milanese e invece nasce a novate anche per un altro motivo perché esiste il novate podcast lab si si è un gruppo di podcaster possiamo dire così di appassionati di podcast che è nato su iniziativa del circolo sempre avanti a Giroiraghi che è un circolo storico che è a novate è stato fondato nel 1907 pensa quindi più di cent'anni fa e infatti è riconosciuto anche come circolo storico dalla regione e questo circolo che fa attività socioculturali e da un po' di anni ha diciamo aperto sai quei circoli che per tanto tempo si sono un po' invecchiati erano un po' invecchiati invece è aperto un po' da una decina d'anni anche a persone un po' più giovani eccetera è stato fatto tutto un percorso di intergenerazione culturale e all'interno di tutto un percorso diciamo strategico del circolo è stato pensato di aprire una specie di radio adesso noi la chiamiamo radio anche perché appunto per parlare di podcast con alcuni fruitori è difficile quindi noi chiamiamo la radio la radio del circolo e il canale radio del circolo e niente quindi il circolo ha aperto una saletta proprio di piccolina fatta un po' amatorialmente dove poter registrare è aperta la cittadinanza in realtà quindi se uno vuole fare il podcast eccetera è stato lanciato un cioè è stato praticamente promosso un corso di formazione proprio gratuito aperto la cittadinanza che ha creato da qui è partito questo gruppo poi perché le persone che si sono formate lì alcune hanno deciso di fare una redazione e di fare un vero e proprio gruppo podcast che si chiama Novate Podcast Lab tra il 2019 e il 2020 quindi Notiziate è una delle produzioni di questo gruppo sì 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 vi ho fatto citarne altre a questo punto per non fare torto a nessuno solo alcune perché sennò poi sappiamo che ci dimenticheremo qualcuno o no oppure riusciamo a dirle tutte ma allora non sono tantissime però c'è Scemo Chi Legge che in realtà che in realtà vuole essere un podcast serio ci sono praticamente ogni puntata viene intervistata uno scrittore una scrittrice però appunto in realtà si chiama Scemo Chi Legge perché non è il mio podcast è il podcast di un'altra persona del gruppo ovviamente e per non diventare scemi tra mille libri insomma con tutti i libri cosa dobbiamo scegliere quindi questo è un po' l'obiettivo del podcast di imparare a scegliere cosa leggere poi c'è gente straordinariamente a caso che invece sono interviste di persone a caso di novate ah ok così solo perché abitano a novate hanno un diritto di essere intervistate l'idea è parte dal dal dialogo insomma diciamo che il gruppo podcast è anche stato promosso perché in questa epoca di comunicazione mediata dal video eccetera in realtà è sempre più difficile sapere ascoltare invece il podcast ti obbliga ad ascoltare come la radio e quindi abbiamo deciso di promuovere questo e in quest'ottica pensando che ogni storia ha qualcosa di straordinario abbiamo fatto questo podcast abbiamo raccolto una trentina di storie già di novatesi novatesi gente a caso si chiama gente straordinariamente a caso ok e poi niente c'è anche un c'è un programma molto carino che si chiama i frichini la voce dei bambini frichini sì apriamo ogni tanto la saletta frichini è bambino tipo marchigiano qualcosa del genere come mai a novate arriva un marchigiano a dire uè frichì perché uno del gruppo podcast ha origini marchigiane quindi ci ha dato questo nome bello carino e l'abbiamo chiamato così e prima di te era un tavolo come io e te oggi però fatto con bambini tra diciamo tra i 4-5 e molto piccoli fino a massimo 10 anni e decidono loro l'argomento e si parla dell'argomento poi abbiamo promosso anche nelle scuole nelle scuole elementari e abbiamo fatto tutta una serie di puntate in cui ogni classe che partecipava gratuitamente sempre noi siamo ovviamente volontari amatori proponeva il suo argomento e lo preparavano ed è stato molto interessante perché abbiamo visto che aiuta anche per esempio bambine e bambine che hanno magari problemi di dislessia eccetera e sono molto contenti perché poi vabbè noi ovviamente montiamo e tagliamo e riascoltandosi aiuta proprio anche a a sapersi ascoltare a imparare a insomma a rigestirsi meglio la parola ed è stato molto apprezzato ed è molto apprezzato si divertono un mondo i bambini e poi non è facile spiegare solo a parole perché adesso sono abituati a guardare infatti fanno un esercizio molto complicato per molti di loro ed è molto interessante perché ci piace un sacco quindi è molto bello quindi noi i bambini mi hanno capito che insomma li avete accalapiati e sono i vostri fan numero uno ma il resto della città come e quando si appassiona ai lavori di Novate Podcast Lab allora facciamo delle giornate aperte al circolo e poi adesso vogliamo aprire anche la diretta la diretta degli eventi del circolo stiamo provando a registrare in diretta e abbiamo fatto una serie di feste e tutte le volte diciamo le volte in cui il circolo sempre avanti fa delle iniziative promuoviamo anche sia il canale podcast che ovviamente facciamo anche proprio la radio come se fosse in diretta ma che siamo lì non è che registra ci sentono ci vedono poi è carino insomma diciamo questo un po' siete quindi la voce appunto del circolo e non solo questa voce appunto esce nasce appunto come voce del circolo ma poi in realtà esce appunto dalle mura del circolo senza problemi grazie appunto al Novate Podcast Lab ancora una canzone poi voglio capire bene invece come la strutturate questo invece notiziate perché io sono curiosissimo di sapere altre notizie poi le rubriche come è quella del pompiere il pompiere sotto l'albero quella di mi piace adesso me la andrò me la andrò a ascoltare intanto i Comacose con Chiamami Chiamami Comacose 8 e 47 minuti Crystal Radio giovedì 31 ottobre vi ricordo questo giovedì che sa di venerdì domani ponte festa dove andate cosa farete potete decidere anche guardando un po' quello che nelle prossime ore anche durante K-Day durante la vostra intermissione vi daranno sicuramente un po' di appuntamenti per questo lungo weekend se vi mettete in macchina e state andando da qualche parte dove Crystal Radio non arriva no scherzo potete anche ascoltare Crystal Radio per qualche minuto per ascoltare tranquillamente i podcast appunto del Novate Podcast Lab come ad esempio Notiziate magari avete deciso di andare a Brunate e ascoltate Notiziate infatti o Bonate Sotto Bonate Sopra forse è meglio Bonate Sotto Bonate Sotto per andare a fare il weekend o Arconate andate ad Arconate un bel buissimo weekend ad Arconate un saluto agli amici di Arconate comunque Notiziate che nasce dalle sfavillanti menti di di Vale Vale le due Vale le due Vale in realtà non sono da sola c'è anche Vale che per oggi insomma fa la prof quindi non poteva essere qua è quella che lavora davvero è quella che lavora davvero e sì Valentina e Maffredini anche lei insomma lo abbiamo inventato in due siamo in due insomma funzionabili insieme diciamo tutte notizie che prendete dai giornali ma che la gente pensa che non sia ogni tanto ci dice ma l'avete inventato voi no non abbiamo inventato niente prendiamo notizie effettivamente vere solo che siccome selezioniamo capillarmente notizie particolari ovviamente sembra un po' la realtà sopra sempre l'immaginazione in questi casi no? per esempio abbiamo la rubrica mistero mistero ah ok la rubrica mistero per esempio ha ospiate di bollate che vedi in quartiere anche in Ate doppiate quindi incredibile ci sono un sacco di misteri quindi lungo le puntate potrete trovare vari misteri oggetti volanti piuttosto che persone che fanno cose o luci che arrivano sulla strada e quindi uno si ferma in mezzo alla strada c'è tutto un racconto e c'è anche la strada della testa di cavallo che non abbiamo ancora scoperto e che chiediamo che hanno detto che c'è quest'altro mistero tutti i misteri succedono a ospiate a ospiate di bollate tutto lì tutto lì va bene è interessante appunto che quindi è una sequenza di storie è una serie diventa tutti gli effetti cioè Netflix scansateve è questo giusto sì abbiamo fatto un sacco di puntate ormai e volevamo farne anche una tutta in Ate le puntate in estate è una malattia la vostra a questo punto diciamocelo ormai sai come la numerologia che vedi numeri ovunque voi vedete Ate ovunque sì giuro infatti va bene ci divertiamo molto facciamo come naturalmente ci divertiamo dove lo ascoltiamo e quando possiamo ascoltarlo allora usciamo diciamo registriamo tutti i weekend spero tutti in realtà non proprio tutti ogni tanto non ce la facciamo però in realtà tutti i weekend quindi esce tra domenica è lunedì un po' a caso però tutte le settimane e lo possiamo ascoltare sia su Spotify che su Spreaker che vabbè anche su YouTube sul canale cercando notiziate circolo sempre avanti ok avete dei profili social dove seguirvi abbiamo anche Facebook di Novate Podcast Lab e Instagram di Novate Podcast Lab e lì ogni volta che pubblicate viene data la notizia e vi ho dato anche il link della puntata ogni puntata ha la notizia del giorno della settimana è interessante e ricordo poi c'è anche il dottor Brambilla è il meteorologo giusto? meteorologo ok come avete fatto a convincerlo cosa le avete rubato una figlia e ha detto poi alla fine te la ridaremo indietro faceva il meteo sulla pagina di 6 di Novate mi ha detestito allora gli ho scritto gli ho detto ma non ti va di fare il meteo veramente in questo podcast che bisogna fare e lui è preso benissimo è veramente un nerd cioè appassionatissimo ci spiega tutto che cos'è il graupel di fenomeni meteorologici e quindi dottor Brambilla mi viene voglia di rubarvelo te lo dico c'è anche un canale lui ha un canale Whatsapp ma io te lo consiglio mi viene voglia di rubarvelo perché se il radio DJ ha il famoso bagnino che fa il meteo ma la Brambilla te lo consiglio non posso non avere il Brambilla che mi fa il meteo te lo consiglio è super bravo è super competente e poi l'ha presa bene di partecipare l'unico appunto punto serio è lui e gli eventi però ci dà sempre i consigli su come vestirci se portarlo un bene o no fondamentale allora il dottor Brambilla lo ascolteremo sicuramente all'interno di notiziate che diciamo appunto esce praticamente più o meno nel weekend a inizio settimana diciamo così martedì mattina quando vi svegliate cercatelo che siete sicuri che c'è lunedì pomeriggio dovrebbe sempre esserci ecco però è così diciamo così lunedì sera mentre tornate a casa ascoltatevelo va bene facciamo così facciamo così altri progetti che avete magari in ballo nel gruppo Novate Podcast Lab abbiamo in ballo appunto di aprire questa radio sempre avanti quindi il podcast appunto per registrare diciamo e provare a dare in diretta tutti gli eventi diciamo le presentazioni di libri per esempio tutte le iniziative che il Circo lo fa e poi abbiamo in realtà in ballo una serie di podcast che vorremmo fare perché il gruppo e ci siamo uniti anche a un gruppo podcast di bollate che adesso ci viene a registrare anche lui lì doppio A anche qui va bene Valeria grazie mille davvero di essere qui con noi portate saluti salutate a tutti quanti tutta la mattina vado avanti così saranno contenti in redazione grazie mille davvero grazie mille a Valeria De Paoli salutaci anche l'altra Vale la Valentina che appunto fa con te notiziate e saluta tutto il gruppo appunto di Novate Podcast Lab grazie cercateli seguiteli perché sono quelle cose belle che ci piace seguire e che vengono fatte da queste parti e adesso musica Katy Perry I Kiss The Girl e poi torniamo qui con la sigla finale 8 e 56 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di giovedì 31 ottobre di Good Morning Milano noi ci prepariamo al weekend lungo e sì domani mattina non saremo in onda ma tanto so che non vi interessa minimamente perché anche voi sarete a casa e quindi non sarete nel traffico non sarete sul tram non sarete lì in procinto di entrare in ufficio e adesso so già che mi arriveranno tutti i whatsapp dicendo cosa no io faccio il turno anche domani il negozio qua rimane aperto e allora vi chiedo scusa e ascoltate e fare è venuto in mente sai cosa potete fare? andate su goodmorning.milano.it vi riascoltate una delle scorse puntate una delle scorse interviste perché lì trovate tutto goodmorning.milano.it oppure anche apple podcast oppure spotify dopo di noi alle 9.05 dopo il giornale radio c'è il bravissimo e super competente Ambrogio Curti con senti questa potete ascoltare quello che vi dice lui ma soprattutto capirlo perché ve lo spiega vi va in mentrol lui prende le righe del pentagramma li apre vi dice cosa c'è dentro vi dice perché quella nota è lì e perché quella canzone ce l'abbiamo e perché la musica è tanto bella da ascoltare senti questa alle 9.05 qui su Cristal Radio con Ambrogio Curti le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Tamara Malleo di Valeria De Paoli e qui Fabio Ranfi al microfono in regia Ginevra in redazione producer la nostra Beatrice grazie mille a tutti di averci ascoltato buon weekend noi ci risentiamo lunedì ciao